Che ore sono? Hanno un quarto Ma a meno un quarto cosa? Lo sai che mi infastidisce l'imprecisione spazio-temporale Oddio! Ma... che succede? Niente, non è successo niente, calma Ma come niente? Allora, perché si è fermato? Ma niente, non è successo niente, è soltanto un ascensore Forse un temporaneo blocco di corrente Rilass Non dimmi, rilassati, perché lo sai che sono una claustrofobica di fama mondiale Calma, schiaccia i bottoni Schiaccia i bottoni Mi sto schiacciando E certo, per te faccio che stai qui Vabbè, soffro, non mi manca l'aria, non mi manca l'aria Ti prego, rilassati Non farti prendere dal panico C'è moltissima, niente panico Niente panico, niente panico, niente panico Ma quale panico è panico? Io respiro forte Io sento l'aria sul piso Io sto correndo libera tra i prati Io corro su un cavallo No, sarò io il cavallo Sarò io il cavallo Calma, qualcuno ci sentirà Qualcuno verrà a darci una mano Aiuto Aiuto! Aiuto! Ti prego qualcosa Ti prego qualcosa Aiuto! Ti prego qualcosa Grazie.